Prima parte, il mondo di Fly. Fly è una giovane tartaruga appartenente ad una grande famiglia in cui sono presenti, oltre ai genitori e ai nonni, anche la bisnonna, una vecchia caretta di oltre 150 anni chiamata Ord Light. Essendo la più vecchia caretta del gruppo, non intraprenderà il nuovo viaggio verso l'isola nativa per la nidificazione, ma resta comunque portatrice di un bagaglio storico essenziale e non sostituibile per i suoi familiari. Ord Light conosce il mare, i venti, le correnti, che ispiravano ben oltre 150 anni fa. «Tide, nipote mio!» dice rivolta al padre di Fly. «La situazione meteorologica è cambiata. Stai attento!» Tide è attualmente il capo del gruppo, il timoniere, il capitano che ha il compito di portare tutti sulla piccola isola di Ascension. È in questa piccola isola che si trova la spiaggia in cui le tartarughe si accoppiano e depongono le uova. Ma l'isola dista dal Brasile, nazione nelle cui acque territoriale il nostro gruppo si alimenta, ben 2200 chilometri. Un piccolo errore nel calcolo della rotta porterebbe le tartarughe fino in Africa, con tutti i problemi che ne susseguono. Tide ha la responsabilità di guidare il gruppo nella giusta direzione e dallo stesso tempo di insegnare i trucchi del mestiere al giovane figlio Fly. «Padre, hai sentito che ha detto Old Light?» chiede Fly a suo padre «la temperatura del mare non è ostimale per iniziare il viaggio». Risponde Tide «la bisnonna è anziana, dobbiamo imparare ancora tante cose da lei, ma il suo fisico oramai comincia ad essere consumato e sente sempre freddo». «Ti sbagli, Tide?» interviene tempestivamente la bisnonna appoggiata dal suo figlio, il padre di Tide. «Qualcosa a livello climatico è cambiato», interviene il nonno di Fly, che a causa di un'amputazione alla zampa destra dovuta all'elica di un motoscafo non potrà intraprendere il nuovo viaggio. «E' colpa degli uomini, sono loro che stanno rovinando questa terra», risponde Old Light. «Figlio mio, non sono sicura che cambiamenti climatici siano dovuti alle attività della specie umana. Possono essere eventi di cambiamento naturale». Replica il figlio «l'uomo ci disturba anche con tutte quelle onde radio. A volte siamo disorientati, incapaci di rilevare il giusto magnetismo terrestre, senza parlare dell'inquinamento. «Lo sai cosa penso della sottospecie umana?» La bisnonna risponde «Non richiamare sottospecie. Ricordi quella vecchia storia che ti ho raccontato tante volte?» «Old Light si riferisce ad una storia avvenuta tanti anni fa. Devi sapere che le correnti da Oriente a Occidente spingono le nuove giovani tartarughe, nate ad Ascension, verso le acque del Brasile, dove cresceranno e si alimenteranno. Molti anni fa alcuni di esse finirono nella rete di un grande peschereccio atlantico. Molte rimasero ferite, ma gli uomini fecero il possibile per salvarle. Tra le tartarughe salvate c'è anche la bisnonna di Fly, che fu issata a bordo e trasportata in un grande acquario dove i giovani volontari la curarono. Una volta guarita con grande festa da parte degli umani fu rilasciata nel mare, dove ha continuato a nuotare libera per il resto della sua vita, come dimostrano i rilevamenti di quel chip inserito dai suoi salvatori. Questo chip è unicamente ad uso scientifico, grazie alla registrazione di tutti i movimenti dovrebbe aiutare gli uomini buoni a capire l'abitudine delle tartarughe al fine di salvaguardarle. Purtroppo, però, oltre agli uomini che si battono per salvaguardare diverse specie di animali su questa terra, ce ne sono altri che gettano così tanti rifiuti in mare che pesci pescati sono contaminati dai veleni da loro stessi prodotti. È come iniettarsi un veleno che giorno dopo giorno ci fa ammalare. Questo è un concetto del tutto estraneo al nostro gruppo di tartarughe. Non rientra nel loro schema mentale. Del resto sono solo semplici tartarughe che si stanno preparando per un lungo viaggio. Torniamo ad osservare i loro preparativi. Odd Light chiama Wave, la moglie di Tide, e le dice, parla con lui, digli che un brutto presentimento per oltre 150 anni la corrente del golfo in questo periodo era più forte e calda. Continua con tono triste ma con voce ferma. Rischierete di sbagliare rotta. Ho notato anche strane interferenze magnetiche. Non distingo più bene il nord magnetico da quello geografico. Wave risponde, non ti preoccupare, tuo nipote Tide conosce ormai bene quella rotta. Grazie a tutti. E vener past Studio De Bo awaitание. Eγermolo, braccia a Bis första e mi postura. Grazie a tutti.